Con il passare degli anni la qualità delle vecchie foto può compromettersi, soprattutto se non sono state incorniciate o riposte in un album. Queste foto possono presentare pieghe che tagliano l'immagine e il punto in cui sono state piegate per essere infilate nel portafoglio, oppure possono avere degli angoli strappati. Possiamo utilizzare Pain Shop Pro per risolvere tutti questi problemi. Per cominciare ingrandiamo l'immagine e correggiamo questa grinza qui. Utilizzando la rotellina del mouse ingrandiamo la foto del 150%, potremmo eliminare la grinza con lo strumento clonazione, ma per farlo dovremmo campionare la foto in diversi punti e potrebbe essere complicato poi farli combaciare. Per fortuna c'è un altro strumento che possiamo utilizzare. Andiamo nella parte sinistra e sotto l'elenco a discesa del pennello clonazione prendiamo lo strumento rimozione graffi. E' uno strumento molto utile, possiamo impostarne la larghezza, bisogna posizionare il punto centrale sul graffio e l'estremità sinistra e destra e inferiore e superiore definiscono l'area da campionare. Anche se il graffio risulta eliminato su motivi come questo, a scacchi, non si ottiene sempre un buon risultato. Da lontano l'effetto è piuttosto buono però. Il livello di ingrandimento è elevato, quindi percorreremo l'immagine procedendo per piccole porzioni. Se non siamo soddisfatti del risultato possiamo lavorarci ancora un po'. Questo strumento può essere applicato anche in verticale, come vedete, è un procedimento molto rapido. Se avessimo provato a farlo con lo strumento clonazione sarebbe stato molto complicato. Invece così possiamo eliminare facilmente anche i gaffi più leggeri, come questo qui. Come ho già detto sui motivi a scacchi, vedete, come questo cappotto, può essere difficile procedere. Quindi può essere necessario ritoccare la foto con lo strumento clonazione. Anche in punti complicati come la linea dei capelli, dove è presente anche un cappello, ecco come in questo caso, conviene procedere per piccole porzioni. Se non siamo soddisfatti possiamo selezionare sempre modifica, annulla e ripetere l'operazione. Ecco. Proveremo con un valore leggermente inferiore, 13. Questa volta direi che va bene. Ecco. Per un graffio come questo possiamo utilizzare lo strumento rimozione graffi, selezionando valori maggiori maggiori e vedere l'effetto ottenuto. Così va bene, ma voglio provare anche un valore maggiore, ancor più grande. Mettiamo, diciamo, 20. Quindi annulliamo e riproviamo. Come si può ben vedere, la porzione centrale dello strumento rimozione graffi evidenzia il graffio e le parti in alto e in basso sono le aree da campionare. Va abbastanza bene. Non è proprio perfetto, diciamo, ma possiamo ritoccare dopo con lo strumento planazione per renderlo, diciamo, ancora più... avere un risultato migliore. rimasta una riga un po' scura qui, ma la sistemiamo tra un attimino. Prima voglio passare tutta la foto. Ecco fatto. Anche se si vede ancora un rilievo. Possiamo eliminare utilizzando lo strumento clonazione e modificando la modalità di miscelatura, selezionando schiarisci per rimuovere le ombreggiature scure. Posizioniamo lo strumento clonazione qui e facciamo clic con il tasto destro per fissarlo in un punto. La modalità schiarisci consente di schiarire i toni scuri. Non è male. Ora possiamo, per esempio, eliminare anche questa macchia. Questa qui. Può essere necessario impostare la modalità di miscelatura su scurisci per sistemare delle aree che sono più chiare di quelle da campionare. Basta cambiare la modalità di miscelatura ed ecco fatto. Ci vuole un attimo, ma con un attimo di tempo in più a disposizione, si può perfezionare l'immagine. Collocare i pezzi mancanti in una foto. Un'operazione che presenta sempre qualche problema, perché non si è mai sicuri di quello che ci va di fare. Quindi dobbiamo usare un po' di immaginazione. Andiamo allo strumento selezione e tracciamo una selezione su questi due tubi, perché penso che possano servirci. Ora selezioniamo quest'area e facciamo clic su modifica, copia, oppure su ctrl c. Ora scegliamo seleziona, nessuna selezione e andiamo su modifica. Incolla come nuovo livello oppure ctrl v. In questo modo abbiamo incollato il contenuto degli appunti e spostiamo la selezione in alto a destra. Voglio aggiungere altri tubi, quindi compongo di nuovo ctrl v e incollo lo stesso contenuto degli appunti e lo sposto in alto. Se usciamo un po' dall'immagine non è un problema, la ritagheremo in seguito. Ora sistemo la parte inferiore, facciamo ancora ctrl v per incollare la nostra selezione. Ora abbiamo tre selezioni incollate qui per ricreare i nostri tubi. Non è esattamente come nell'immagine originale, ovviamente, ma possiamo concederci una piccola licenza artistica. Evidenziamo l'immagine di sfondo in basso e utilizzando ancora lo strumento di selezione definiamo una piccola area del muro vuoto. Ora selezioniamo quest'area stando attenti a non includere i dettagli dell'immagine. Facciamo ctrl c per copiare la selezione negli appunti, ctrl d per scegliere nessuno e poi ctrl v per incollare. In questo modo abbiamo incollato i contenuti come un nuovo livello. Utilizzando di nuovo lo strumento sposta possiamo spostarci in alto per riempire questa zona. Facciamo di nuovo ctrl v per incollare un nuovo livello aggiungendo ancora gli stessi contenuti all'area e un altro ctrl v per spostare la selezione e ancora ctrl v. Ora abbiamo riempito la nostra sezione mancante, non è perfetto ma per il momento è sufficiente. Ora non ci resta che selezionare lo strumento ritaglia e rimpicciorire la foto con la rotella del mouse. Tagliamo fuori le zone rovinate, stringiamo la foto e facciamo clic sul pulsante applica che si trova qui. Ed ecco la nostra foto. Grazie a tutti.